si passa dalla pola alla felpa come se non ci fosse un domani ma si dai 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 su ili cicili 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 ciccio se volete può essere anche un piacevole scioglilingua ma perlopiù è un grande giocatore ci mette sempre la sua firma sempre il timbro sempre sempre che rigore che abbattuto che palla pregevole per zapata che poi la butta fuori vabbè ma che giocata lì in quel frangente in quel fazzoletto fa passare la palla in mezzo a tre persone tanta roba sì un pochettino mi piace sto giocatore giusto un pochetto penso che si è capito ma leggermente dai non sono di parte assolutamente no 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 per carità ragazzi è l'Atalanta in finale finale di Coppa Italia l'altra volta forse erroneamente ho detto Champions tutti a dirmi cambia spacciatore no lo spacciatore rimane sempre lo stesso mi dà le dose giuste per cui non lo cambierò mai però cerco di correggermi d'ora in poi e l'Atalanta in finale per perché 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 ha fatto un un percorso straordinario quest'anno partendo anche un pochettino col freno a mano tirato ma poi appunto quando quando un certo giocatore hossip è entrato in campo ed è entrato come si doveva e la squadra la squadra adesso figlio mio raggiunge e sta raggiungendo dei risultati fantastici cioè adesso c'è solo da coronare questo fantastico percorso con con una vittoria della della Coppa con l'accesso in Champions che che io penso che alla fine per gioco per tutto quello che stanno dimostrando forse sono la squadra che più di tutte in quella corsa la più di tutte sta squadra qua la merita merita il piazzamento Champions è bella beh 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 d'altra parte ho visto una Fiorentina che se se per una squadra ci sono tante tante lodi per l'altra c'è un'annata che veramente veramente buia fuori da tutto in campionato se non ero solo decimi che sono decimo undicesimo non lo so precisamente e adesso c'era questa Coppa Italia dove si poteva cercare veramente di andare in fondo per per cercare un pochettino di raddrizzare le cose invece non è non è andata così mi aspettavo anche qualcosina in più stasera anche se poi a dire la verità qualche occasione ce l'ha avuta perché se segna avere tu dopo quella magnifica cavalcata e sai metti la partita su un binario più difficile per la Dea eh anche se la Dea la Dea se vuole fa quel che vuole se vuole fa quel che vuole e però avendo dei giocatori sai veloci come Chiesa Miraias lo stesso Muriel mi aspettavo che in contropiede con con un po' più di tenacia alla fine qualche gol in più lo potevano anche fare perché poi i difensori dell'Atalanta sono rocciosi sono fisici ma di certo non sono veloci e agili quindi cozzano con le caratteristiche appunto dei giocatori fiorentini dai e l'Atalanta l'Atalanta più fortunata del solito è riuscita a centrare questo obiettivo più fortunata del solito perché 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 trova un rigore intelligente intelligente di Gomez che si mette tra la palla e il difensore si fa dare la botticella e poi trova il 2 a 1 che praticamente è un è una papera del portiere però è sempre la solita Atalanta che macina 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 e prima o poi il gol se macini prima o poi il gol lo fai questa è la realtà è la realtà dei dei fatti vediamo vediamo io mi avro con tutto il cuore che veramente la squadra bergamasca riesca a centrare uno di questi due obiettivi così che questa stagione resterà senz'altro nel cuore nella storia dei tifosi nei pensieri dei tifosi atalantini però se questa squadra poi vince la Coppa Italia e oppure accede in Champions ai gironi della Champions perché se arriva al quarto posto vai direttamente ai gironi rimani nella storia appunto rimani nella storia del calcio non solo quello atalantino non solo quello bergamasco quindi io mi avro con tutto il cuore che veramente accada una cosa del genere così che se ne possa parlare tra dieci anni perché se l'Atalanta va in Champions se ne parla anche tra dieci anni come capitò all'Udinese di Spalletti il nostro Spallettone che portò l'Udinese in Champions ragazzi quindi ai preliminari però se non erro quindi c'è da sperare una cosa del genere non mi dilungo fatemi sapere cosa ne pensate voi quindi commentando, likeando e iscrivendovi al canale ci aggiorniamo, rimanete sintonizzati perché oggi c'è una partita di calcetto da vedere non vi dico altro un grande abbraccio da Neschio